Strano, calcio strano, una settimana fa potevo essere su un'altra panchina, non è andata bene e poi mi è presentata questa occasione. Troppo facile non sia la Stapanesa Stato, mi lega qua tanto affetto, tanti bei ricordi e alla fine sono quelli che poi all'ora della scelta fanno sempre la differenza. Volontà sua perché la società penso che non abbia deciso di mandare nessuno, però giustamente se non c'è la voglia, vogliamo gente che resta qua con noi e sposi la nostra causa. Se per un motivo o per l'altro questo non c'è, è giusto che passino la loro strada. Ci sarà un altro gradito ritorno, penso, quello del figlio al prodigo Alberto Re, penso che lui già sia quasi fatto alla Stapanesa.